da anni la camera di commercio di firenze in generale sistema camerale a livello nazionale mette a disposizione degli imprenditori degli strumenti fondamentali, basici per svolgere attività online soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione e per sottoscrivere digitalmente documenti e contratti digitali ultimamente questa attività è diventata di particolare rilevanza in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 la camera di commercio sia a distanza con il sistema di riconoscimento online sia presso gli sportelli in presenza qui nella sede di Piazza dei Giudici su appuntamento eroga CNS che sono delle card che contengono il certificato per la firma elettronica e il certificato per il riconoscimento online token evoluti che è possibile utilizzare anche in mobilità con il smartphone mentre CNS per CNS è necessario il lettore altri strumenti molto importanti che gratuitamente la camera di commercio mette a disposizione mentre per i primi bisogna pagare i diritti questi terzi strumenti invece sono gratuiti e sono riservati a tutte le imprese regolarmente scritte nel registro delle imprese e sono i cassetti digitali e quindi si possono visionare tutti i documenti ufficiali che riguardano l'impresa tra questi dispositivi poi abbiamo, è utile ricordarlo, anche lo SPID lo SPID è un sistema che ci permette di farsi riconoscere online alla stessa stregola delle CNS però come per il token evoluto in mobilità senza bisogno di lettori e di impostazioni fisse Seminario gratuito online su impianti di trattamento rifiuti, autorizzazioni, vincoli e opportunità organizzato dall'albo regionale gestori ambientali e la camera di commercio di Firenze Due date a scelta, 20 o 27 novembre Continuano gli webinar di accompagnamento all'export di Promo Firenze prossimo appuntamento il 26 novembre dalle 16 alle 17.30 con la distribuzione del vino in Canada e il rapporto con il monopolio Vuoi diventare imprenditore? Rivolgiti al servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze Riceverai assistenza nella fase di avvio dell'azienda attraverso un servizio specializzato per l'analisi di prefattibilità dell'idea imprenditoriale La consulenza è gratuita Grazie a tutti! Grazie a tutti!